una breve storia delle targhe automobilistiche nel periodo del 1901 al 1905 la targa era composta dal numero seriale preceduto dal nome della provincia scritto per intero l'uso della sigla automobilistica è iniziato in italia il 28 febbraio del 1927 in precedenza si utilizzava un codice numerico di due cifre che contraddistingue la provincia le targhe tra il 1905 il 1927 come dicevo avevano due cifre in rosso che indicavano la provincia di provenienza seguiti da un numero crescenti i numeri venivano assegnati dalla prefettura ma le targhe che venivano realizzate a mano dai proprietari e quindi spesso erano diverse tra di loro inoltre avevano un sigillo in piombo per legarle alla macchina le targhe della provincia di reggio colabria riportare il numero 53 nella nostra provincia la targa con il numero 53 001 fu assegnata nell'apri del 1906 la conclusione che mi viene a dire sempre con la dovuta approssimazione e che nell'arco di 22 anni dal 1927 al 1950 in provincia sono vendute 3.520 automobili una velocità e gli inizio 900 tra i proprietari di auto figuro nobili avvocati ingegneri industriali politici invece i farmacisti preferivano la motocicletta